Comprare un token o una crypto in presa e fare per 700, è possibile? Assolutamente sì, molti però ti dicono appunto che hanno acquistato un token o una crypto in presa e li hanno fatto per 50, per 100, per 30, per 20, però nessuno ti dice come fare o in molti casi in cui te lo dicono ovviamente non ti dicono quali sono i migliori progetti che appunto possono fare questi boom incredibili, anche perché non tutti i progetti fanno questi boom. Bene in questo video io ti darò la soluzione, benvenuto crypto amico se non mi conoscevo sono Salvatore, prima di iniziare però lascia like al video che per me è fondamentale, per te non costa nulla e soprattutto iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto, guarda tutto il video perché ci sono delle novità molto molto interessanti. Voglio chiederti una cosa fondamentale prima di iniziare, acquistare questi token e queste crypto in presa e lo può essere fatto tranquillamente, non è nemmeno così difficile ma arrivare a fare un guadagno per 100, per 200, per 300, per anche per 700 in alcuni casi e per 1000 è possibile ma non è così semplice, anche perché ci sono delle cose che comunque vanno a favore di questi boom incredibili come ad esempio alcuni trend. Infatti nel momento in cui ci sono dei trend che stanno esplodendo come ad esempio il passato quello degli NFT, quello della DeFi e quello del metaverso, in quel periodo in cui escono tantissimi progetti e in cui c'è un boom incredibile, una bolla legata a quel trend è molto molto più facile fare dei guadagni e quindi dei ROI davvero davvero incredibili. Altra cosa importantissima, ci sono tantissimi modi per comprare un token o una crypto in presale, molti dei quali o meglio quelli là più profittevoli richiedono comunque un budget d'entrata abbastanza alto, anche perché come ho spiegato in altri video che trovi sul canale ci sono determinate piattaforme che sono davvero davvero interessanti, che ti danno la possibilità di partecipare a tutte le presale ma hanno dei requisiti di entrata, ovvero dei piazzamenti che devi sostanzialmente effettuare acquistando i loro token e le loro crypto. E molte di queste piattaforme hanno un entry price, ovvero un prezzo d'entrata per poter acquistare davvero davvero alto. Ovviamente le piattaforme che hanno questi entry price più alti sono quelle là che hanno un ROI maggiore in media su tutti i progetti. Ovviamente acquistare tutti i token e partecipare a tutte le piattaforme e tutti i progetti per te sarebbe una cosa davvero poco gestibile, perché ne sono tantissimi e probabilmente anche poco profittevole, proprio perché non tutti i progetti hanno un ROI interessante, anzi molti di loro hanno un ROI basso e molti altri invece addirittura portano comunque ad una perdita, anche perché oltre ad avere un entry price alto queste piattaforme richiedono comunque l'acquisto di questi token e di queste crypto, quindi l'emissione di altro capitale, proprio perché per ogni progetto che vai ad acquistare devi comunque pagare una cifra di allocazione per acquistare questi token e queste crypto. Quindi starei pensando che ovviamente è davvero difficile arrivare a fare un ROI così alto per 700 ad esempio, perché appunto dovresti trovare anche soltanto i progetti più interessanti e quindi sostanzialmente puoi rinunciare all'idea. Ma fermati perché ho una soluzione che fa per te, infatti sto provvedendo a realizzare un servizio ovviamente a pagamento, che costerà davvero poco, che ti darà la possibilità di conoscere i migliori progetti. Ovviamente io e il mio team stiamo diciamo preparando una struttura di ricerca nel quale andiamo a selezionare i migliori progetti di queste piattaforme e tra l'altro questo servizio ci sarà la possibilità di sapere in tempo reale quando ci sarà il listing di questi token sugli exchange, non solo quelli più importanti ma anche quelli minori, così da avere doppia possibilità sia di conoscere i progetti più importanti, partecipare alle preseglie ovviamente anche se hai un budget ridotto e sapere in tempo reale quando questi progetti verranno poi listati sugli exchange. Quindi il mio consiglio è di entrare nei canali e gruppi Telegram per rimanere molto molto aggiornato, seguirvi ovviamente su tutti i social così che non ti perderai la notizia importante di quando verrà lanciato il servizio. Detto questo andiamo a vedere appunto come acquistare un token o una crypto e cercare di fare il ROI più alto possibile. Bene, in molti ti diranno che per acquistare i migliori progetti bisogna fare comunque una ricerca approfondita riguardo il team, riguardo il white paper, capire comunque, fare un'analisi fondamentale sul progetto eccetera eccetera. Queste sono cose giustissime che richiedono tante competenze e tanto tempo, quindi sicuramente è il metodo migliore per scoprire quali sono i progetti migliori, anche perché capire e sapere bene chi c'è dietro al progetto, se ci sono persone molto competenti, magari cofondatori di altri progetti interessanti, capire se il progetto ha dei fondamentali, magari importanti, una blockchain che può risolvere un determinato problema in qualsiasi ambito, il leggere il white paper e sapere tutto di un determinato progetto, sicuramente è il metodo migliore. Però è quello là che ti richiede comunque più tempo e ovviamente non tutte le persone hanno le competenze giuste per poter fare queste ricerche. Ma c'è un altro metodo che adesso io ti insegnerò, tra le due lette insegnerò, ovvero che già ti ho accennato, è quello di seguire sostanzialmente i trend. In questo periodo c'è stato il trend e la bolla dei metaversi. Andando a vedere su Trustpad, che è una piattaforma molto molto interessante, che comunque ti consiglio di andare a guardare, sono stati lanciati moltissimi progetti. Nel momento in cui c'era la bolla del metaverso, appunto sono iniziati a uscire tutti questi progetti riguardo il metaverso, moltissimi di questi progetti ovviamente andranno a scomparire e moltissimi comunque di questi progetti non avranno un seguito. Però nonostante questo hanno avuto un boom incredibile quando sono stati lanciati, ovviamente listati su determinati exchange, proprio perché ci troviamo in un momento in cui c'era il trend del metaverso e la bolla del metaverso. Vi faccio un esempio molto molto importante. Quando è stato lanciato appunto Blocktopia su Trustpad, Blocktopia era un metaverso della quale si parlava moltissimo, si parla ancora moltissimo per il potenziale che ha, e dal momento del lancio su questa piattaforma Blocktopia ha fatto un per 700. Quindi chi ha partecipato al lancio su Trustpad sostanzialmente e ha venduto ovviamente in all time high, che sostanzialmente ha fatto un per 700, che comunque è un ritorno davvero davvero alto. Infatti possiamo andare a vedere sulla piattaforma che il token è stato venduto sostanzialmente, adesso non riesco a trovare, eccolo qui, a 0,00025 dollari, quindi meno di un millesimo di dollaro sostanzialmente, e è arrivato a toccare un all time high di mi pare 17, eccolo qua, 18 centesimi di dollaro, quindi un per 700 ovviamente, seppure non avresti venduto in all time high, ma quando è sceso comunque il prezzo, avresti fatto un per 500, 400 circa, che comunque è un ritorno davvero davvero incredibile. Questo perché ci troviamo in un momento in cui la bolla del metaverso è scoppiata e molti progetti erano ambiti, e sostanzialmente, quindi al di là del team del white paper, del progetto in sé per sé, anche perché Blocktop è un metaverso totalmente sviluppo che ancora non ha un granché di sviluppato, diciamo molto molto seriamente, ha comunque avuto un boom perché ci troviamo in un momento nel quale c'era il trend del metaverso e la bolla è scoppiata. Ma come partecipare alle pre-sale su Trustpad? Sostanzialmente, ragazzi, è davvero davvero facile. Come tutte le piattaforme dovete tenere il token di riferimento della piattaforma, in questo caso parliamo di TPAD. Ogni TPAD attualmente costa 0,40 centesimi e detenere questo token comunque vi comporta un rischio. Al di là della possibilità di acquistare e di avere allocazione garantita, che vi spiego tra poco cosa è, porta il rischio comunque di avere dei token che comunque nel tempo hanno perso di valore, sono arrivati anche a qualche centesimo, e potrebbero magari non tornare più a quel bacione. Quindi è comunque un rischio da mettere in considerazione. Come funzionano i livelli? Innanzitutto, ragazzi, per poter acquistare token e crypto in pre-sale su Trustpad, scusate, avrete bisogno del token TPAD. Detenere questi TPAD vi dà in alcuni casi una possibilità di vincere un'allocazione, in altri casi invece vi dà l'allocazione garantita al 100%. Cosa significa allocazione? Significa la possibilità di acquistare un tot di token e crypto. Quindi per ogni progetto, adesso vi faccio vedere, ad esempio Megachain, c'è un'allocazione Base Allocation di 19 dollari e 23 approssimativamente, anche perché questa allocazione cambia. Quindi se vincete un'allocazione avrete la possibilità di acquistare 19 dollari e 23 di Ashward, in questo caso scusate. Andando a detenere 3000 token a TPAD, avrete il 20% di possibilità di vincere un'allocazione. Quindi in questo caso non avete allocazione garantita, ma avete una possibilità. Ovviamente per ogni progetto viene fatta un'estrazione. Se vincerete, in questo caso col 20% di possibilità, avrete la possibilità di acquistare quell'allocazione. Con 6000 TPAD avrete due allocazioni, quindi in questo caso se la collocazione è 19 dollari per 2, quindi 38 dollari, col 30% di possibilità di vincita. Andando avanti con 10.000 TPAD, sempre allocazione per 2, con 50% di vittoria. Invece passando a 15.000 TPAD, che sono comunque un bel po' ragazzi, avrete allocazione garantita, quindi per ogni progetto avete la certezza di poter acquistare i token per 2, quindi allocazione per 2. In quel caso se l'allocazione sarà 10 dollari per 2,20, se sarà 5 dollari per 2,10 e così via. Ovviamente per avere allocazioni e quindi fare dei ROI molto molto più alte, avreste bisogno di allocazioni molto molto più alte. Quindi infatti detenere ad esempio 500.000 TPAD, che sono davvero una cifra incredibile, vi permette un'allocazione per 80, ma questo vi permette in questo caso di acquistare tantissimi token. Immaginate ad esempio Blocktopia, allocazione per 80, vi permetteva di acquistare ad esempio l'allocazione di Blocktopia, adesso non ricordo quando era, andiamo a vedere. 11 dollari per 80 ragazzi, erano circa 880 dollari per 700, immaginate un po' il ROI che avreste avuto, soltanto per un progetto. Ovviamente ragazzi so che non tutti di voi hanno la possibilità di acquistare così tanti token, non vi preoccupate, c'è la soluzione anche per questo, perché nel servizio che uscirà, quindi vi consiglio ancora una volta di entrare nei canali, gruppi Telegram e di seguirmi su tutti i social, ci sarà la possibilità appunto di entrare in questi progetti con budget anche più ridotti. Ovviamente una volta acquistati i TPAD, dovrete metterli in staking su questa piattaforma, e non solo aprite la possibilità di partecipare ai progetti, ma lo staking vi avverrà anche un interesse sempre pagato in token, in base per quanto tempo bloccherete i vostri token. Vi ricordo che una volta bloccati i token in staking, potrete partecipare comunque a tutti i progetti, quindi se li bloccate per 180 giorni, potete partecipare a tutti i progetti in base al tier col quale vi siete classificati, quindi se detenete 10.000, potrete partecipare a tutti i progetti con 50% di possibilità di vincita, quindi non garantita. Da 15.000 in su avete sempre allocazione garantita, in questo caso da 15.000 token a salire l'allocazione sarà garantita, potrete partecipare a tutti i progetti con un interesse pagato di TPAD al 30%. Ovviamente ragazzi come vi accennavo di queste piattaforme ne esistono davvero un casino, il mio consiglio è quello di aspettare e sfruttare dei trend, ovviamente in questo periodo è ancora molto più difficile fare un ROI altissimo, anche perché il mercato comunque è ancora incerto, è una fase calante e quindi ovviamente trend e le bulle sono scoppiate, non ci sono grossissimi trend, infatti anche gli NFT, il metaverso eccetera eccetera stanno avendo delle difficoltà, quindi in questo periodo risulta più difficile, ma è possibile partecipare a determinati progetti che io e il mio team riteniamo davvero interessanti anche per il lungo termine. Quindi per aiutarvi a trovare soltanto i progetti più interessanti, a partecipare soltanto a quei progetti che potrebbero essere più interessanti, il mio team stiamo costruendo questo servizio davvero davvero incredibile ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, fatemelo sapere anche nei commenti, ricordatevi di lasciare like che per me è fondamentale e seguirmi su tutti i canali social e anche qua su YouTube. Grazie a tutti. Grazie a tutti.